adesso io taglio i funghi ed ecco la nostra prima raccolta in soli 5 minuti abbiamo riempito già una cassetta di funghi che funghi sono? no, che si chiama non mi ricordo le ma? le mazze di tamburo perché sono a forma di mazze di tamburo ecco guardate qui che bel trio di mazze di tamburo mamma mia quanto è grande è più grande di Mario Rosario Mario Rosario è la cercatrice numero 1 dei mazze di tamburo della provincia di Varese e altre? dove dove? oh brava Mario Rosario mamma quanto è mazzita brava vai se no ce la rubano eccoci qua allora alla prossima